berga youtube continua la pubblicazione dei video della playlist dedicata alla traduzione degli autori del quinto anno del liceo classico sto producendo in questa settimana siamo gennaio 2024 una serie di video espressamente dedicati alla traduzione guidata dei filosofi una decina di video sulla traduzione degli autori è già resa disponibile da qualche mese ora ci occupiamo di platone di aristotele ed altri che seguiranno nei video dei prossimi mesi la cadenza settimanale della pubblicazione ti assicura la possibilità così di tenerti in allenamento tanto più che se continua l'alternanza nota del ministero tra latino e greco la seconda prova di quest'anno dovrebbe proprio essere la prova di traduzione dal greco questo è un breve passo tratto dalla politica di aristotele ed è un passo incentrato su una similitudine tra il mondo dei costruttori o dei tessitori il mondo degli artigiani e il mondo dei politici e aristotele si interroga sulla qualità della materia introdotto l'argomento possiamo incominciare ho già messo osper e uto in evidenza perché sono i due estremi su questo si basa la comparazione dei che significa bisogna ed è una di quelle espressioni impersonali che poi regge la proposizione all'infinito come in questo caso dei dunque ten hylen come soggetto e poi hyparken come predicato verbale e questo verbo di norma significa in questo caso essere a disposizione essere disponibile di qualcuno e questo di qualcuno in greco espresso col dativo quindi la costruzione di hyparco è più dativo noi diciamo però essere a disposizione di qualcuno e kaito i sallois demiurgois è il nostro dativo e poi ti segnalo volentieri questo hoion che molto ricorrente nel linguaggio filosofico specie in aristotele che sta a indicare come ad esempio e quindi introduce un esempio in questo caso prima ha parlato dei toys hallois demiurgois e poi parla del hyphantes e del naupegos cioè del tessitore e del costruttore di navi l'infinitiva ten hylen come soggetto hyparken predicato verbale usan ed a collegarsi a hylen è un participio presente del verbo essere che forma un predicato nominale insieme a epitedeian usan epitedeian pros ten ergasian e fin qui il senso sarebbe come infatti anche per gli altri artigiani per esempio il tessitore e il costruttore di navi è necessario che ci sia a disposizione il materiale usan epitedeian che sia adatto pros ten ergasian al lavoro e poi prosegue con una parentesi che vedremo fra un momento e poi c'è huto kaito politico kaito nomo zete dei ten oikeian hylen hyparken epitedeios e husan e allora abbiamo kaito politico kaito nomo zete allora il kai l'evidenzio diversamente ce n'è uno qua sopra e c'è uno qua sotto in comune alla prima parte la seconda della similitudine il verbo di partenza per noi rappresentato da dei bisogna e poi c'è la proposizione infinitiva al cui soggetto è ten oikeian hylen che vuol dire il materiale appropriato il materiale conveniente hyparken è il predicato verbale e essere a disposizione e poi to politico kaito nomo zete sono i due dativi della serie così anche per il politico e legislatore è necessario che sia a disposizione il materiale conveniente adatto e poi c'è un'ultima cosa che ci interessa che questo epitedeios e husan che è molto interessante perché e husan intanto è un participio presente femminile singolare riferito a ten oikeian hylen ma è interessante la presenza dell'avverbio perché il verbo eho quando si trova in presenza di un avverbio viene ad avere un significato intransitivo della serie stare oppure essere quindi in questo caso si parla di un materiale appropriato che sia epitedeios che sia utile che sia adatto questa è la resa che trovi appunto sul dizionario ecco più avverbio viene ad avere un valore intransitivo la riformuliamo per intero come infatti anche per gli altri artigiani ad esempio il tessitore oppure un tessitore è un costruttore di navi è necessario che ci sia a disposizione un materiale che sia idoneo per il lavoro così anche per il politico e per il legislatore è necessario che ci sia a disposizione il materiale appropriato che risulti conveniente che sia conveniente dentro la parentesi che abbiamo lasciato per ultima per seguire il filologico del discorso troviamo in testa un oso che va a collegarsi con beltion 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 è una forma di comparativo della seconda forma di comparazione uno dei comparativi speciali particolari di agazzos e qui abbiamo usato la forma neutra che vale come avverbio quindi significa quanto meglio oso beltion oso con la terminazione del dativo singolare che è impiegata quando si rafforza l'avverbio in latino la stessa formula sarebbe stata quanto e poi meglius e quindi quanto con la desinenza blativale o dunque oso beltion andiamo a occuparci dei verbi tinjane che è un congiuntivo presente da tinjano con lan che dà una sommatura eventuale il soggetto è questo haute che viene da hutos haute tuto l'accento fa la differenza non è haute che significa ella oppure la stessa o la medesima questo è haute da hutos haute tuto questo e quindi il senso è oso beltion quanto meglio questa è infatti gar tinjane è costruito con parescheuasmene allora in parescheuasmene che riporto subito sotto riconosco un verbo composto abbiamo da dividere in questo modo qui fondamentalmente manca la vocale tematica e questo vale come raddoppiamento quindi questo è un un participio perfetto medio passivo da parescheuasmai la dentale del tema verbale si assimila con la mi e diventa sigma il verbo è parescheuazo che significa preparare ma devo ancora includere nella spiegazione un riferimento al participio predicativo perché tinjano è costruito sempre con il participio predicativo e si traduce dunque in questo caso quanto meglio questa si trovi ad essere predisposta migliore come traduzione di quanto meglio sia predisposto sia stata predisposta per caso preferisco sempre tinjano col predicativo tradurlo con mi trovo a dunque il senso però deve completarsi quanto meglio e poi c'è ananche ananche kaito gignomenon ipotes tecnes dobbiamo completare il senso della frase dentro la parentesi ananche kaito gignomenon questo è un participio sostantivato da gignomai participio presente e inai è il verbo della mia proposizione infinitiva perché ananche è sottinteso esti e quindi il senso è è necessario è una locuzione ricorrente nel linguaggio filosofico vale a dire indica la conseguenza logica ma anche necessaria è necessario che kaito gignomenon ipotes tecnes che ciò che deriva dall'arte sia più bello questo è il senso la riformulo quanto in quanto meglio infatti questa si trovi ad essere è stata predisposta è necessario che anche ciò che deriva dall'arte sia migliore sia più bello possiamo anche tradurlo anziché è necessario che di necessità anche ciò che deriva dall'arte risulta più bello risulta migliore questo è il passo di oggi dalla politica di aristotele interessante per questo confronto tra quelle che sono le qualità le proprietà della materia impiegate degli artigiani e quella che invece è la materia con cui hanno a che fare i politici e i legislatori evidentemente gli uomini e le loro teste i loro sentimenti intanto il nostro lavoro è compiuto se ti è parso utile lascia pure un like se non l'avessi ancora fatto ti invito ad iscriverti alberga youtube e intanto come concludo sempre ti auguro buon lavoro